Buonasera da Etg Marche e bentrovati a questa nuova edizione del nostro notiziario come di consueto in contemporanea streaming sul nostro sito internet tvmarche.it e sulla nostra pagina facebook di atv in apertura la cronaca a Recanati con un vasto incendio che nel primissimo pomeriggio intorno alle 14 e 30 ha mandato in fumo un appartamento è crollato anche il tetto molto complesse si sono rilevate le operazioni di spegnimento dell'incendio condotte dai vigili del fuoco in particolare dai comandi di osimo e di macerata il fatto è avvenuto in piazzale pintucci cavalieri a Castelnuovo le fiamme sono divampate per cause ancora in corso di accertamento i pompieri hanno operato per domarle nella zona è arrivata anche un'altra autobotte nell'abitazione vivevano padre e madre con tre figli oltre ai genitori della donna per un totale di otto persone in questo momento si ritrovano completamente senza la propria abitazione ancora cronaca con il ritrovamento del SUV in questo caso ad Ancona che nella notte dello scorso 4 agosto era stato utilizzato come ariete presso il centro commerciale Oshan da una banda di ladri che era riuscita ad asportare una cassa automatica Bancomat all'interno dell'ipermercato agenti delle volanti della questura l'hanno individuato e recuperato nel tardo pomeriggio di ieri il veicolo un pagero Mitsubishi rubato a Roseto degli Abruzzi è stato rinvenuto privo di ruote in una zona piuttosto impervia del Monte Conero nelle vicinanze del sentiero numero 6 in una scarpata posta nelle vicinanze del SUV gli agenti hanno rinvenuto anche il Bancomat che era stato rubato completamente scardinato e privo dunque di denaro sul posto sono intervenuti anche gli agenti della mobile e della polizia scientifica che hanno effettuato un accurato e prolungato sopraluogo tecnico finalizzato all'evidenziazione di impronte eventualmente lasciate dai malviventi. Ruba merce al centro commerciale Comercatone di via Gronchi a Civitanova poi si scaglia contro gli addetti dell'attività che cercavano di fermarla colpendoli a calci e pugni arrestata per rapina impropria una sessantenne albanese che ora si trova ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Il fatto è successo ieri pomeriggio a Civitanova quando agenti della volante del commissariato sono intervenuti al centro commerciale e hanno bloccato la sessantenne. La donna ha rubato alcuni articoli in esposizione subito dopo oltrepassato le casse senza pagare il relativo importo. Gli addetti dell'attività commerciale che avevano seguito le mosse della donna attraverso le telecamere hanno tentato di fermarla ma la sessantenne per guadagnare la fuga e conservare la merce si è scagliata contro di loro colpendoli appunto con calci e pugni. I poliziotti intervenuti subito sul posto hanno poi bloccato e arrestato la sessantenne. I due addetti alla sicurezza del centro commerciale sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso per entrambi la prognosi è di alcuni giorni. Voltiamo pagina parliamo del porto di Ancona e delle sfide che si prepara ad affrontare lo scalo d'orico sempre più internazionale sempre più orientato a rispondere alle richieste alle esigenze del mercato in termini di competitività sia sul fronte del commercio che sul fronte del turismo. Commercio e turismo, il legame con la città, lo sviluppo internazionale, la competitività, il porto di Ancona cambia nella forma e nella sostanza. Vestirà un abito nuovo su misura rispetto alle sfide dei mercati e dell'economia globale ma anche per recitare il ruolo di rappresentanza di un intero territorio come quello delle marche. E così il maquillage legato al porto storico, quello che si congiunge e vive dentro Ancona ma pure la nuova banchina che permetterà un salto di qualità nel settore delle crociere pur rispedendo al mittente ogni preoccupazione di effetto Venezia. È una filosofia, è affrontare un tema che è quello del turismo, affrontarlo in maniera scientifica, strategica, affrontare il tema dei crociaristi in maniera diciamo tecnica. È una banchina dedicata alle navi da crociera che oggi non possono arrivare al porto di Ancona ma che girano in Adriatico. Sono navi da crociera leggermente più grandi di quelle che attualmente scalano. Oggi scala la più grande un 275 metri, arriveranno navi da 290 massimo 310 metri. Ma è un mercato che la città non può perdere, la regione non può perdere. Parliamo a regime di una nave da crociera al giorno per 150, 130, 140 giorni. Ogni giorno potranno esserci ad Ancona e nel territorio marchigiano 2.500 persone. Dal turismo al commercio. Il porto di Ancona pompa sui numeri per ritagliarsi un ruolo strategico anche nel traffico merci. Due i passaggi. La prossima riqualificazione dell'ex carbonile ad opera della Fratelli Maritime, l'abbattimento dei silos che cambierà lo skyline del capoluogo per prendere al mare nuove aree su cui far sorgere economia. È terminata la demolizione di una parte dei silos che per 50 anni sono stati protagonisti del porto di Ancona perché sono nati per creare lavoro. Ci sono ancora altri 16 silos che dai primi di settembre saranno abbattuti per terminare il tutto entro dicembre. Si susseguono nel periodo estivo tante iniziative nelle varie città, nei vari comuni delle Marche compresi anche quei comuni che fanno parte purtroppo del cratere sismico. Un ultimo evento è quello di Cupi di Visso. Vediamo. In un bel sabato di agosto la frazione di Cupi di Visso ha celebrato la diciannovesima mostra del pecorino dei tesori della Sibilla con un duplice scopo promuovere le produzioni di qualità delle aree interne e rilanciare un territorio ferito. La manifestazione è stata organizzata dalla locale confraternita del Santissimo Crucifisso con il patrocinio del Comune, del Parco dei Monti Sibillini e di Coldiretti Macerata. Negli anni l'evento è cambiato, nato infatti come esposizione ovina. Ora in mostra ci sono i formaggi. Mostrando a tutti come si faceva il formaggio tradizionale e come i più anziani ancora lo fanno e invitando tutti i produttori scolastici in primis con la sua azienda del formaggio e tutti i produttori della Coldiretti che si trovano qui nei vari posti bellissimi che abbiamo dei Monti Sibillini. Tanti come detto gli espositori del formaggio pecorino, tutte imprese d'eccellenza della zona di Visso. Una bella mostra, una bella fiera dove siamo presenti con i nostri produttori, con i nostri stand e dove siamo presenti anche per sostenere la nostra petizione Stop Cibo Falso dove chiediamo all'Europa appunto di rendere obbligatoria l'etichettatura dei prodotti agricoli. Obiettivo ambizioso, quello di raccogliere un milione di firme ma ci stiamo riuscendo e però serve il sostegno di tutti. Presente anche Alessandro Gentilucci, sindaco di Pievetorina, presidente della comunità montana delle alte valli del Fiastrone Chienti e Nera e anche facente funzione di presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. In un momento così delicato dobbiamo essere pronti a fare squadra affinché ci sia l'opportunità anche attraverso questi territori di poter ridare slancio a quella che è una microeconomia che pian piano altrimenti si andrebbe a perdere. Gentilucci annunciando che il 24 agosto le tre comunità montane maceratesi parleranno insieme a nome di tutta la montagna, chiede sviluppo oltre alla ricostruzione. La posa della prima pietra il 4 settembre per la nuova sede del Parco Visso è un motivo di orgoglio ma da solo sarà una goccia d'acqua all'interno di un mare. Noi dobbiamo cercare di portare politiche cogenti. E proprio a proposito di ricostruzione novità importante anche per Visso annunciata dal primo cittadino. Dentro la fine di questo mese partiranno i lavori della nuova area Parco Zelle dove verranno rifatti i negozi, il nostro museo, la nostra biblioteca, la chiesa e tutto quello che era la piazza che conteneva la piazza di Visso, quella che poi adesso non abbiamo più. Sarà qualche cosa di bello, sarà qualche cosa di quello che ridarà alla nostra gente una parvenza di paese e di città. Altro evento invece che è ormai una consuetudine nel cartellone estivo del Comune di Ancone non solo è quello del Festival del Dialetto di Varano, giunto quest'anno alla 45esima edizione, nel via giovedì 22 agosto, non senza i problemi per rispondere alle esigenze di ordine pubblico. 45 anni del Festival del Dialetto di Varano, tutto pronto anche per questa edizione che comincia giovedì 22. Come edizione è stata un po' sofferta, però come entusiasmo ce lo lasciamo lo stesso, perché ci crediamo veramente tutti. Il Comitato è un gruppo eccessionale, senza contare che invecchiamo, questo è una cosa, 45 anni non può passare senza lasciare il segno, però stiamo crescendo parecchi ragazzini, parecchi giovani, abbiamo cercato di ringiovanirlo come il Varano canta e chiaramente è stata una ventata di cambiamento, piccolo cambiamento. Le cuoche sono eccezionali, questo non cambia. La gente viene a Varano per le commedie e per la cucina. Ci mettiamo pure l'aria buona, diciamo, però queste sono le due attrattive. Varano ormai è un mito, quindi quando queste vengono a Varano, lo ripeto per l'ennesima volta dicono, quando vai a Varano tu hai una visibilità, hai raggiunto un obiettivo e questo è il lavoro di tutti noi. È una bella maratona e quindi lo è stato prima perché il mio lavoro inizia praticamente appena finisce il festival, inizia subito perché non c'è un tempo per andare a vedere gli spettacoli, anzi più ne vedi e meglio è. 45 anni di Festival del Dialetto hanno fatto di Varano un punto di riferimento nel panorama teatrale ma anche nel cartellone degli eventi estivi del Comune di Ancona. Su un binario parallelo e minaccioso corre però la burocrazia e l'osservazione delle misure di sicurezza richieste nel rispetto delle sempre più stringenti leggi vigenti, predisposizioni che hanno sfiancato anche il Comitato Manifestazioni Varanesi. Si fa di tutto per portare il meglio, si fa di tutto per portare al pubblico divertimento, evasione e stare senza pensieri ma è anche un fatto sociale poi tra l'altro, aggregare la gente in un ambiente sano perché tra l'altro vedi si parla tanto di sicurezza però dobbiamo dire perché se ne parlava anche prima con la Presidente che la sua è un posto sano. Quindi io voglio soprattutto elogiare il gruppo Comitato Manifestazioni di Varano perché sono splendidi e l'entusiasmo che hanno loro. Io giro dappertutto, veramente si trova da poche parti. Però devo dire che bisogna che in alto qualcuno si sensibilizzi e ci aiuti a fare questo perché siamo in difficoltà. non possiamo essere soffocati per fare delle cose buone. La pagina sportiva ora iniziamo dal rugby e dalla giornata di ieri che ha visto la nazionale italiana battere in maniera anche piuttosto agevole e larga nel punteggio finale della Russia, uno degli ultimi test match, l'unico comunque giocato in Italia prima della partenza per il Mondiale in Giappone. La vittoria per 85-15 in una sfida a senso unico che ha messo sempre in evidenza la netta inferiorità dell'avversario. 12 le mete totali dell'Italia che ha potuto esaltarsi in fase offensiva proponendo anche belle giocate. Nella storia della nazionale questa è la terza vittoria più larga di sempre mentre è il secondo punteggio più alto di sempre. Si è giocato di fronte ad oltre 10.000 spettatori al Riviera delle Palme, lo stadio di San Benedetto del Tronto, uno spettacolo al quale la risposta è stata quella di un pubblico divertito. Il CTO sci ha schierato la migliore nazionale dal primo minuto, la stessa che in Giappone dovremo vedere contro il Sudafrica nel match chiave per tentare quello che è un durissimo passaggio ai quarti di finale. I russi hanno messo tanta buona volontà ma hanno giocato a livello più basso sia sul piano fisico che tecnico. In particolare note per Polledri e Minozzi ma sono stati tanti a fare bella figura. I 23 in campo, tutti tra l'altro presenti nella lista dei 31 per il Giappone che oggi è stata ufficializzata dal stesso CTO sci, si sono divertiti, dunque hanno fatto divertire, come detto, gli oltre 10.000 spettatori che hanno seguito il match tra Italia e Russia al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Per il calcio invece questa sera terzo turno in Team K al del Duca alle 20.30 Lascoli di Mister Zanetti, ospita il Trapani per quello che è anche un vero e proprio anticipo della prima giornata di campionato di Serie B che si giocherà sabato prossimo e dunque aprirà il torneo cadetto. Questa sera però 20.30 Ascoli Trapani vale come terzo turno per la Coppa Italia Team Cup. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto tutte le news le potete trovare pubblicate anche sul nostro sito etvmarche.it e sulla nostra pagina Facebook di Etv Marche. Tutto invece per questa edizione, grazie dunque dell'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.